guardate che bei piccoli troppo piccoli però ho visto che han tagliato qualche fungo quindi se io levo un altro che sani che belli che piccoli oggi 29 settembre sono appena uscito dalla macchina che si vede lì vabbè si intravede ho visto qualcosa che non so non ci credo che sia un porcino un porcino ci ho dato un calcio vediamo un po non lo è peccato ma ne dubitavo che lo fosse stato porcini non è ancora visti qualche altra qualità che non vi dico prima quindi qualcosa comincia però mentre filmavo qui l'ho visto una cappella grossa andiamo a vedere guardate che bella cappellona che l'ho vista da lontano se l'abbiamo uscito però è un porcino questo lo prendo vediamo un po se vale la pena ultimamente negli ultimi 5 6 giorni sempre più uto più uto super cresciuto piccoli non ne vedo proviamo a levarlo è duro è duro è duro bello duro pensavo peggio sto vedendo due tre cappelle da qui distanza e la ci avviciniamo vediamo cos'è guardate che bello guardate poi la ne vedo altri uno con la testa nera prendiamo non so se sanno perché è duro però è piovuto troppo guardate è piovuto troppo qua qua ce ne sono uno due guardate sono belli questi sono qui giovane prendiamo questi tre qua vediamo a prendere gli altri ne vedo altri tre o quattro qui cinque sei guardate quanti sotto sta pianta guardate vediamo tutto tutto quello che si può prendere poi vediamo questo che si ha rotto la gamba che bello minchia spettino tutto qua in mezzo neanche vedo dove vado questi rami guardate 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 poi a caso ci vediamo cos'è da tenere cosa no è bello c'è da tenere cosa no ce ne sono ancora due o tre più forse quattro ancora cinque più prendo più ne vedo piccolo piccolo ops sta staccata la testa e la gamba vabbè qui qui anche qua rotto c'è un'altra e c'è un'altra qui c'è un'altra pensavo di trovare niente qui a casa li vedremo meglio non travesto uno e gli altri di seguito pensavo di trovare niente guardate un altro qui sano pensavo di trovare nessun fungo oggi guardate che grosso guarda che enorme che sano poi non ne vedo altri qua un altro lì andiamo a prendere che bello questo guardate che fungone meraviglia c'era un altro qui che ho visto ci arriviamo eccolo qua non lo sanno campone grosso boccioloni guarda pensavo di non trovare niente il culo ragazzi guardate guardate senza neanche mettermi sotto le spuglie le vedo guardate guardate 3 le vedo da qui guardate qui guardate qui guardate qui 2 le 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 vedo che qualcuno è venuto perché c'è un gambo tagliato col coltello qua vicino c'è un altro fungo bello sono qua è tagliato col coltello chiaramente guarda eh da cazzo sono venuti andate piccolini guardate cipino piccolini guardate normalmente li lascerei però siccome ci viene altra gente prima che prenda niente mi prendo questi non giro tanto intorno perché c'è pieno prima prendere questi tre qua belli se ci arrivo si che ci arrivo 4 su 4 nel frattempo sono diventati 4 guardate che gambe ma guardate guardate che cappella e che gambe ne vedo 4 vabbè ne ho già presi fin troppi sono appena al primo posto dove vado io guardate questa quanto riguarda tutti i 4 guardate che gambe che meglio che meraviglia ma non finisce göre qui un altro posto vicino saranno 60 metri da dove ho trovato gli altri bello sano un altro 2 3 4 3 rami non c'è che bello venguta un po' troppo in l'ultimo giorno però non sono inzuppate i marci venguta un quadru ecco la foglia davanti altro qua sotto sta pianta non ne vedo un altro di là forse non lo so giornata alla grande al p3 uno sarà da lasciare lì però c'è solo in faccia ecco adesso incontrare bene bene qui ne ho trovato tre o quattro questi qua non so se sono ancora buoni un altro giovane si vede la testa faccio un giro e li prendo se li trovo non ho visto un altro porcino bello sano bello ma ce n'è forse uno o due in più stiamo cercando delle ghiande grosse da piantare guardate che bello che bello bello che bello mi vedete qualcuno è venuto guardate e li ha detto perché mi vedono allora poi la gente che qualcuno capisce. Cosa c'è un altro bello, piccolino, ma lo prendo io, non ce li lascio più su un piccolo, anche se sono piccoli me li prendo. Poi torno, ho preso gli altri. Fungo, fungo, uno, due, tre forse, altro, minchia col sole, guardate qui, togliate i gambi, coltello, ne ho lasciate anche uno rovesciato su, e ce n'è un altro. Guardate quanti, non so di che razza sono, se col sole vedo la mia faccia, comunque c'è pieno, pieno, qui ce n'è una marea pura, cappuccini, che masca, adesso non ne vedo più. Guarda quello che sarà venuto prima di me, e ha preso. Grazie. 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 Grazie.